Buongiorno e benvenuti nel mio canale. Io sono Alessandro Fanello e sono uno psicologo. Insegno scienze umane e filosofia in un liceo di Roma e ho deciso di aprire questo canale per condividere il percorso fatto finora e le mie esperienze con voi. Infatti all'interno del mio contenitore potete trovare quattro sezioni. La prima è proprio dedicata al mondo della psicologia e della formazione. O meglio, potete trovare tanti video dove parlerò di strumenti che potete utilizzare lavorando con ogni gruppo e quindi strumenti prestati dal mondo della formazione da applicare per esempio nelle classi a scuola oppure con qualsiasi tipo di gruppo voi lavoriate. Nella seconda sezione invece potete trovare video riguardanti le vere e proprie lezioni scolastiche quindi video di filosofia, di psicologia, di pedagogia o di sociologia. Nella terza invece potete trovare video di benessere e relax e quindi dei video che partendo dallo strumento del training autogeno possono aiutare a rilassare il vostro corpo e la vostra mente. Infine la quarta sezione invece è dedicata agli hobby e ai momenti creativi. Potete trovare tanti suggerimenti di come passare il vostro tempo e ottimizzare il vostro tempo in maniera spensierata ma anche creativa. Quindi vi aspetto numerosi, iscrivetevi al mio canale e seguitemi per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità e tutti i nuovi video che farò. Un saluto a tutti e benvenuti ancora nel mio mondo.